Soleil e Jeremias non sono riusciti a contenere la gioia di potersi riabbracciare dopo quasi un mese di lontananza. Così, durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, poco dopo essere entrata in studio, Soleil è corso dal fratello di Belen. Tra i due c'è stato un lungo e passionale bacio sulla bocca, ripreso dalle telecamere e tra gli applausi del pubblico. Durante la loro permanenza in Honduras, Jeremias e Soleil hanno instaurato un rapporto che va oltre l'amicizia, ma che ancora non possono chiamare amore. Adesso avranno la possibilità di conoscersi meglio e di frequentarsi lontano dalle telecamere e capire se sono davvero fatti l'uno per l'altra. Anche se le sorelle dell'Argentino, Belen e Cecilia, non hanno espresso il giudizio esattamente lusinghieri sulla bionda italo-americana.